Siamo in condizione di qualcuno che venga a muovere lì Anche se noi stiamo andando all'inizio, noi dobbiamo fare in arabe Il piano è che voi fate finta di cuore Quattro chilometri si entra, velocemente si pensa che non possiamo Ci sono anche due metri italiani, viste? Prassi comuni in tutta Europa Ho in mente una randuola 150 barili di chides E' una follia! Potrebbe essere lì Non c'è niente da fare, il colpo non riesce, sono tutti ubriaci Però non ci resta che questo Quattro? Grazie a tutti.